ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video sono sempre fabrizio e quest'oggi ci ritroviamo per parlare di project cars 2 perché è uscita una mega patch la 1.3.0.0 per pc che quando si va a leggere il change log sembra di leggere la divina commedia per quante modifiche e aggiustamenti e aggiunte sono state fatte in questo appunto aggiornamento il che fa veramente piacere perché si vede realmente la direzione che Slidy My Studio vuole intraprendere quindi aggiornamento costante e soprattutto all'ascolto della comunità quindi mi sembra un qualcosa di molto positivo per tutti andremo ad analizzare alcuni punti importanti cioè che a me hanno colpito di questo aggiornamento di 2 giga e 700 mega che non è poco ragazzi perché se andiamo per analizzare tutto il change log qua ci vorrebbe veramente 10 ore di video quindi la primissima cosa che mi ha colpito è sicuramente la possibilità di creare campionati online in cui uno può partecipare a un campionato fatto da un amico ad invito o crearselo ci sono mi pare 6 slot disponibili per creare più campionati ed ogni campionato può avere addirittura 24 eventi programmati cioè 24 tappe quindi pensate il campionato di cospicui quello che mi piace tantissimo di questa aggiunta è sicuramente la possibilità di fare multiclassi e gestiti quindi come immaginate una 24 ore in cui c'è l'MP1, la 2, le classi GT e in più creare dei team ragazzi molto molto interessante più la gestione di tutte le restrizioni, regolamenti eccetera eccetera quindi un'aggiunta che dà un valore aggiunto al multiplayer è sempre il multiplayer, però dà un valore aggiunto di poter organizzare qualcosa di competitivo e di duraturo nel tempo il che è davvero molto bello una cosa sulla quale mi vorrei soffermare è che la gestione delle temperature delle gomme è cambiata e con esso anche il comportamento delle auto infatti anche con le gomme ghiacciate uscite adesso non vi girate più in modo aleatorio il comportamento dell'auto è molto molto coerente sia essa a trazione anteriore che a trazione posteriore e qualsiasi sia la potenza io ho testato per bene, ma non a fondo, ma per bene le due combo che mi piacciono tantissimo quindi la Clio Gap su Outland Park circuito molto sconnesso in cui le auto sono veramente alla frusta soprattutto per quanto riguarda gli ammortizzatori l'auto si comporta in modo totalmente diverso rispetto a prima ed è in modo molto più realistico secondo il mio modestissimo parere ovvio che mi riservo di continuare a testare per vedere le varie situazioni in gara, in multiplayer, in pratica, in hot lap insomma voglio approfondire un po' la questione e la Lamborghini Huracan GT3 su Imola che sapete che Imola è uno dei miei circuiti preferiti in cui in pratica non si poteva assolutamente fare uno o due giri con più o meno la stessa cadenza, con lo stesso ritmo e soprattutto impostando le curve allo stesso modo devo dire che la fisica è sempre comunque sgorbutica sempre implacabile però sempre tendente ad un reale comportamento dell'auto infatti oggi si riescono a fare parecchi giri uno dietro all'altro ieri sempre con questa combo qui sono riuscito a fare comunque una decina di giri in cui mi sono girato una volta perché ho sbagliato io, ho toccato l'erba e si è girata ma il comportamento dell'auto globalmente in modo generale è veramente anche qui cambiato e si ha veramente il piacere di guidare adesso non ho testato abbastanza come vi dicevo per potervi dire sì ok è a posto ragazzi no perché su un'ora o due ore di gioco non posso dirvi ragazzi ok abbiamo il gioco definitivo realmente il lavoro di fondo è stato rivisto e ristrutturato anche per quanto riguarda la gestione dei danni ragazzi questa è una cosa anche molto interessante prima se tu toccavi una botta con il radiatore sapete che dopo due giri la macchina moriva e la gara era finita oggi c'è un sistema di calcolo dei danni che è proporzionale alla botta che dai ovvio che la tua auto subisce un danno e perde in prestazioni ma non per forza il motore va a surriscaldarsi e a morire subito dopo qui in base a quello che c'è è proporzionale a quello che sono le botte che prendi e quindi a me piace questa cosa perché comunque è sempre coinvolgente comunque sai che vai a perdere in prestazioni ma non per forza vai a rompere la macchina è comunque un comportamento in generale che restituisce comunque secondo me una situazione simile e reale, passatemi il termine l'altra cosa che è stata rivista è sicuramente anche il sistema della gestione dei tagli in cui prima era standard, cioè tu tagli 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi qui no, in base alla gravità del tuo taglio e dal tuo comportamento dietro al taglio cioè io ti avverto, rallenta, se no ti purgo, se tu non ti fermi non ti danno più 5-10 secondi ma in base a quanto hai guadagnato è come una piccola munizione magari qualche secondo in più mi è capitato di avere 2 secondi piuttosto che 4 in base alla gravità del taglio il che mi sembra anche un'ottima cosa, cioè il tutto è livellato in un certo modo altra cosa è l'intelligenza artificiale che è stata rivista, ho letto e ho testato rapidamente così che sono state riviste le velocità di entrate e di uscita delle curve perché alcune volte era inverosimile anche il livello di bravura della IA con le slick sul bagnato quando c'è il tempo dinamico, quindi il meteo dinamico, quindi i gammi in corsa in cui tu ti ritrovavi a guidare sulle uova e sul ghiaccio e loro sfrecciavano come dei treni questo è stato rivisto ma complessivamente comunque la IA è stata rivista intanto su tutti i tracciati e anche in base a quelle che sono le dinamiche del meteo e su tutte le sessioni che si fanno cioè dalla pratica alla qualifica alla gara è stato tutto livellato perché prima pratica e qualifica sembrava che erano degli alieni e poi magari in gara gli davi 10 secondi io l'ho testata a 100% di bravura con aggressività al 70% non ho visto delle partenze disastrose in cui tu prima curva ti facevi il segno della croce vediamo come me la manda l'aggressività è gestita un po' meglio adesso è sempre da testare perché io l'ho fatta con la Ginetta G40 per testare un attimino la combo di venerdì e che vi ricordo che è sempre aperto ci sono ancora dei posti dispensi tanti posti disponibili vi invito ad iscrivervi su simdrivers.eu per avere tutte le informazioni io ne approfitto ragazzi faccio pubblicità all'evento di venerdì questo vi aspetto tutti alle 21 se non l'avete fatto chiedetemi l'amicizia io sono Fabriz78 ecco chiusa parentesi serata di venerdì in cui vi dicevo ho testato la Ginetta G40 la IA se la batte benissimo cioè al 100% gli fa i 10 giri sono sempre a mezzo secondo dietro il comportamento sembra un po' meglio ora bisogna vedere con le classi più potenti vedere realmente quello che succede complessivamente è quello che mi ha stupito di più cioè mi ha colpito positivamente di questo mega aggiornamento ci sono tantissime correzioni che sono state fatte anche per quanto riguarda la gestione della realtà virtuale so che sono stati migliorate e corrette alcuni errori ci sono dei glinch su certi circuiti che sono stati aggiustati ragazzi andate a vederlo il changelog è veramente un affare mostruoso ma una cosa che mi ha sorpreso è che secondo me qualcuno nella slide di MyDistudio è andato a vedere uno dei miei video è che è stato finalmente tolto quel cavolo di file audio che non so da dove avevano tirato dello stridio delle gomme adesso è meglio, molto meglio quindi ragazzi mi pare che abbiamo fatto il giro di quelle che sono le cose interessanti potrei parlarvi pure che sono stati e che è stato aggiunto un evento ad invito per la carriera con la McLaren 720 Challenge mi sembra sono tante piccole cose anche dei pop up che non erano al posto giusto che tutto quello che è HUD è stato sistemato che sono stati aggiunti dei led che per vedere quale pulsante è acceso meglio insomma tanti piccoli dettagli che fanno comunque complessivamente migliorano il titolo Project Cars 2 e soprattutto quando ne vengono rilasciate due in meno di due mesi vuol dire che la slide di MyDistudio è molto attiva e molto attenta a quelle che sono le problematiche di Project Cars 2 e che la direzione è quella di far diventare questo titolo un giorno forse uno dei migliori simulatori ragazzi io penso di aver fatto veramente il giro di questa pace dei punti interessanti io come al solito vi invito a commentare se non siete d'accordo con me oppure se volete aggiungere qualcosa che non ho detto, che non ho citato che è molto importante non esitate ad iscrivervi tanto è gratuito io vi ringrazio per avermi seguito e soprattutto vi ringrazio per tutti i commenti e i complimenti che mi fate io spero vivamente di poter riempire questa benedetta stanza venerdì vi aspetto numerosi e vi ringrazio ancora una volta ci vediamo al prossimo video da Fabrizio è tutto ciao ragazzi alla prossima